Musica Droga dal Sud America anche col sommergibile, il fiume di stupefacenti anche da Spagna e Olanda, persino a bordo di ambulanze per non destare i sospetti. I narcotrafficanti utilizzavano chat criptate, 29 le misure cautelari preso a Dubai, il braccio destro di Imperiale. Pozzuoli, mazzette spacciate per il tesseramento d'EM, una delle accuse che la Procura di Napoli contesta a Nicola Audati, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta corruzione per l'appalto al Rione Terra insieme all'ex sindaco, figlio Lia, venne sorpreso con buste piene di contanti. Assalto armato al market, video shock a Capaccio, quattro banditi armati di pistola hanno seminato il panico, rapinando con un'azione violenta un supermercato, il deputato Borrelli diffonde le immagini e lancia l'allarme, servono più agenti e nuove leggi per fermare i criminali. Benevento, osteria a fuoco, la pista dell'attentato nel Mirino, un'attività a Rione Ferrovia, le fiamme sono state appiccate dopo che i malviventi hanno versato del liquido infiammabile all'ingresso, il rogo non si è propagato all'interno, già sentito il titolare dagli inquirenti. Bagnoli via all'intesa per l'elettrificazione, si tratta di opere importanti per lo sviluppo dell'area, l'insediamento di nuove attività previste dal programma di rigenerazione. Il sindaco di Napoli, Manfredi, soddisfatto, un altro passo verso la rinascita. Qualità delle cure, patto tra ospedali campani ad Avellino, l'accordo tra le aziende ospedaliere per migliorare anche la sicurezza delle cure, ma i continui tagli al comparto condizionano il nostro lavoro, dicono il manager. Al Moscati mancano 5 medici al pronto soccorso. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, a ben trovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In apertura la cronaca, il narcotraffico internazionale, droga importata da Olanda e Spagna per le piazze di spaccio più fiorenti del napoletano. C'è anche il Parco Verde di Caivano. Carabinieri e DDA infliggono un duro colpo a due associazioni a delinquere. 29 in tutto gli indagati. Vediamo il servizio. Container, borse, ambulanze, ma anche sommergibili, la droga viaggiava ovunque a rivelarlo. Un'intercettazione agli atti dell'inchiesta dei Carabinieri e della DDA di Napoli, che oggi ha portato all'esecuzione di 29 misure cautelari. L'operazione ha consentito di sgominare due organizzazioni criminali, composte anche da stranieri, e la partenza dei sommergibili, indicata Panama d'altronde, è ritenuta una delle capitali mondiali della cocaina. Per trasferire la droga senza destare sospetti, veniva utilizzata anche un'ambulanza dai narcotrafficanti, determinante per far luce sull'esistenza delle bande. È stato il monitoraggio del narcotrafficante Bruno Carbone, socio in affari del Narcos, Raffaele Imperiale, come lui oggi collaboratore di giustizia, arrestato in Siria e all'epoca dei fatti residenti a Dubai, dove si teneva il contatto con i suoi sodali, utilizzando criptotelefonini, a utilizzare il sistema del gruppo riconducibile ai fratelli della Monica e a Nacca, come emerge da un'intercettazione agli atti. A distribuire all'ingrosso, secondo l'antimafia, era Vincenzo della Monica, che da Marano a San Giovanni a Teduccio, gestiva l'attivo dei carichi di droga, che lui stesso ordinava a carbone. Dai depositi partivano le distribuzioni, per Scampia, Parco Verde, di Caivano, Marianella, la Cisternina di Castello di Cisterna e ancora Secondigliano, Giuliano, Marigliano. Altro gruppo in affari, invece, sarebbe collegato a Simone Bartiromo, Roberto Merolla e Giovanni Cortese. Partite nel 2017 per arrivare alla cattura di carbone, le indagini hanno permesso innanzitutto di scoprire il nickname utilizzato nelle chat criptate, con le quali comunicava anche sua madre durante il periodo di latitanza a Dubai. La polizia questa mattina nella zona della sanità ha arrestato 12 persone, tutte accusate a vario titolo di associazione finalizzata al traffico e detenzione di droga. La squadra mobile, con l'ausilio del commissariato Arenella, oltre ai provvedimenti personali, ha anche sequestrato ad alcuni degli indagati beni mobili e immobili, tra i quali due autorimesse, 54 mila euro in contanti e numerosi rapporti bancari. Dalle indagini è anche emerso che la droga veniva ordinata via telefono, fissando contestualmente ora e luogo della consegna, a cui poi provvedevano una nutrita schiera di pusher. Gli spacciatori, inoltre, si avvalevano anche di appoggi volanti e custodi dello stupefacente. La banda è emerso, gestiva la vendita di ingenti, quantità di asciusce e marijuana, assicurando ai clienti forniture senza soluzione di continuità. Tragedia sfiorata ieri sera a Secondigliano per il crollo del solaio di una palazzina a due piani di via Paolo Giovio, ha ceduto anche la parete di un edificio attiguo. Vediamo. Un crepitio, poi il boato improvviso, e il crollo del solaio di una palazzina di due piani, paura ieri sera in via Paolo Giovio a Secondigliano, a seguire un altro cedimento, quello di una parete interna adiacente a un altro edificio con accesso da via Montefaito. Nessun ferito, ma tanto spavento, tra i residenti. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile, evacuati i nuove appartamenti dello stabile, mentre a causa della caduta di detriti nel cortile di un palazzo attiguo sono state sgomberate altre due abitazioni. Le famiglie hanno trovato sistemazione autonome, tranne due nuclei affidati ai servizi sociali del Comune di Napoli, ma chiedono di poter tornare presto a casa, nella mente quei drammatici attimi. Verso le otto e un quarto, io mi stavo ritornando a casa e improvvisamente abbiamo sentito questo crollo che abbiamo visto macerie. Cinque minuti prima eravamo passati, e mia sorella, e dopo altri due vicini di casa sono scesi con i bambini. Abbiamo visto prima il crollo, e poi abbiamo visto tutto questo. La situazione è questa, è drammatica. Il messaggio è che speriamo che si risolva tutto in poco tempo, che non possiamo stare fuori. È difficile anche andare a casa di altre persone. Ancora cronaca, le mazzette per l'appalto a Rione Terra a Pozzuoli, spacciate per soldi del tesseramento PD. È una delle accuse che la Procura di Napoli contesta a Nicola Audati, coinvolto nell'inchiesta sulla presunta corruzione insieme all'ex sindaco di Pozzuoli, Figliolia. Vediamo. Busta è piena di soldi con migliaia di euro, e quando le forze dell'ordine gli chiedono spiegazioni, Nicola Audati fa sapere che provengono dal tesseramento del PD di Taranto, di cui è commissario. Una tesi che però non convince gli investigatori che cominciano a scavare. È il gennaio 2022, quando a Roma l'ex esponente del PD, Nicola Audati, attuale dirigente della regione Campania, viene sorpreso con i contanti. Secondo la Procura di Napoli, si tratta di mazzette versate dall'imprenditore, Salvatore Musella, per aggiudicarsi l'appalto del resort sull'antica rocca a Rione Terra di Pozzuoli. Nell'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione figurano 11 indagati. Tra gli arrestati, anche l'ex sindaco Vincenzo Figliolia. Chiaramente si tratta di una vicenda particolarmente dolorosa, una vicenda che ha scosso profondamente la nostra comunità. Coltiviamo la speranza umana che i soggetti coinvolti possano dimostrare la loro estraneità ai fatti. Paradossalmente però dobbiamo anche rilevare che entrambi i soggetti non fanno parte più del PD da tempo, non sono più iscritti da tempo, tant'è vero che anche alle ultime elezioni amministrative di Pozzuoli il Partito Democratico ha deciso di non concedere il simbolo. Nei verbali del GIP che nell'ordinanza cautelare parla di comitato d'affari illegale ci sono le intercettazioni telefoniche ambientali. Odati avrebbe ricevuto in almeno altre due occasioni contanti dai collaboratori dell'imprenditore. Questa è la tesi della procura partenopea che ha sequestrato una pendrive con una contabilità segreta dell'imprenditore. Da qui potrebbe partire un nuovo filone dell'inchiesta. E ci spostiamo adesso a Capaccio Pestum dove quattro banditi armati di pistola hanno seminato il panico rapinando con violenza un supermercato. Il deputato Borrelli lancia l'allarme bisogna aumentare la presenza delle forze dell'ordine e adottare leggi più forti per fermare questi criminali. Vediamo. Sono immagini agghiaccianti quelle che arrivano da Capaccio Pestum e che riguardano la rapina avvenuta lo scorso 12 gennaio in un supermercato della città dei Templi. Un colpo di circa 10.000 euro tra soldi e bottiglie di valore nel video reso pubblico sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Si vedono i banditi armati di pistola e con il volto coperto. Mentre con chiaro accento campano minacciano le cassiere e le costringono ad aprire la cassaforte. Un colpo caratterizzato dall'estrema violenza. Due dipendenti infatti hanno accusato un malore e sono state soccorse dal 118. Stiamo parlando di una vicenda lennissima della criminalità più efferata volgare e vigliacca e violenta che assalta come spesso succede i nostri luoghi pubblici o anche i nostri negozi con pistole armati e super pericolosi. Per il deputato campano servono soprattutto leggi più determinate per frenare l'avanzata della criminalità. Noi vogliamo più presenza delle forze dell'ordine e pene più dure ma allo stesso tempo che si applichino quelle che ci sono. Quando uno viene arrestato perché ha fatto una grave rapina resti in carcere un bel po' di tempo e dall'altra parte i giudici devono applicarle in modo molto preciso le norme. È vero che è sempre utile fare le norme ma le norme ci sono. Il tema è che molto spesso ci si stanca o ci si scoccia di applicarle. Attentato incendiario nella notte a Benevento dove nel Mirino è finita un'osteria a Baccaleria al rione Ferrovia le fiamme sono state appiccate probabilmente dopo che i malviventi hanno versato del liquido infiammabile alla base della Saracinesca. L'allarme è scattato poco dopo della mezzanotte a Viale Principe di Napoli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale e gli agenti delle volanti della questura sannita. Per fortuna l'incendio non si è propagato all'interno del ristorante ma ha comunque danneggiato la Saracinesca e la porta d'ingresso. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia che sta effettuando tutti i rilievi ed ha ascoltato il titolare dell'attività commerciale. E cambiamo argomento andiamo a Bagnoli dove è stato sottoscritto questa mattina l'accordo per l'elettrificazione di tutta l'area SIN. Si tratta di opere determinanti per lo sviluppo dell'ex area Italcider. Vediamo. Il commissario straordinario per Bagnoli Gaetano Manfredi ha sottoscritto con Invitalia Terna Rete Italia ed Edistribuzione l'accordo che dà il via alla realizzazione degli interventi per l'alimentazione elettrica di tutta l'area di Bagnoli. La firma dell'accordo di elettrificazione del sito di interesse nazionale di Bagnoli Coroio rappresenta un ulteriore passo in avanti nella realizzazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'exitalcider di Bagnoli. Questo è un passo fondamentale perché oggi tutta l'area di Bagnoli non ha una fornitura di energia elettrica quindi questo consente di realizzare sul sito SIN tutta l'infrastruttura di alta, media e bassa tensione quindi questo è veramente un passaggio importante che abbiamo lavorato per molti mesi per arrivare a questo accordo anche per definire poi tutte quelle che sono le caratteristiche progettuali mi sembra un risultato veramente molto importante insieme ovviamente alla prosecuzione di tutte le attività di bonifica che sono state aggiudicate su tutta la parte a terra e che quindi consentiranno in maniera abbastanza rapida di procedere per il recupero del sito. Per i comitati e i cittadini di Bagnoli è stata l'occasione per ribadire la necessità di rispettare le clausole sociali per una vera ricaduta occupazionale sul territorio. Siamo qui per ribadire questi punti perché l'elettrificazione dell'area la bonifica dell'area di Tarsider le clausole sociali per quello che ci sarà oggi di bonifica e domani per il lavoro devono avere un ritorno su questo territorio sulla città di Napoli sui suoi abitanti su chi oggi è disoccupato e disoccupata. La Commissione europea applaude alla PNRR Cultura smentite le tante Cassandre così il ministro San Giuliano che è tornato oggi a Napoli per la cerimonia di svelamento di due targhe per Aiello e Marotta il ministro ha parlato anche dell'autonomia vediamo E una sfida vinta quella della programmazione spesa dei fondi PNRR Cultura per il ministro Gennaro San Giuliano oggi ospiti a Napoli del liceo Sbordone per la cerimonia dello svelamento della targa in onore dello storico Raffaele Aiello e del filosofo Gerardo Marotta Smentendo le tante Cassandre tutte le rate ci sono state pagate e poi con un po' di orgoglio voglio dire di aver ricevuto una lettera dalla commissaria europea alla cultura che fa i complimenti all'Italia andiamo avanti con grande determinazione e con grande attenzione Credo in una concezione diffusa perché la cultura crea dei buoni cittadini e quindi io penso che la cultura debba essere diffusa ovunque Dichiarazioni importanti quelle del ministro che arrivano alla vigilia del CDM di oggi che vedrà protagonista proprio il tema del PNRR Quando leggo che sulla programmazione dei fondi 2014-2021 noi abbiamo speso solo il 37% beh mi rammarico tantissimo perché noi dovevamo spendere il 100% quello che faccio io tutto quello che è stato stanziato in Campania lo spenderemo fino all'ultimo millesimo Nel corso della cerimonia il ministro ha ricordato il rapporto speciale intercorso con il filosofo napoletano Marotta Io sono stato particolarmente legato a Gerardo Marotta che mi regalava libri e quindi già questa cosa in un certo senso mi emoziona Gerardo Marotta simbolo veramente emblematico della militanza culturale Raffaele Aiello uno storico che ha fatto della ricerca accurata capillare il proprio metodo di approccio chiaramente alle discipline storiche al diritto Sanità in Campania patto tra tre aziende ospedaliere per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure anche i continui tagli al comparto condizionano il nostro lavoro servono più risorse al Moscati di Avellino mancano cinque medici al pronto soccorso vediamo Qualità e sicurezza delle cure mediche patto tra tre aziende ospedaliere della Campania ospedali dei Colli Moscati di Avellino e Aslo di Salerno insieme per garantire sempre più azioni di miglioramento dei processi di cura dei pazienti tutti concordi però nel fatto che i continui tagli alla sanità pubblica condizionino questo percorso al Moscati per esempio c'è carenza di medici soprattutto nel pronto soccorso Il Moscati è sotto di circa cinque unità di personale medico rispetto agli standard però abbiamo messo in campo una serie di come dire alternative nel senso che ci sono medici nuovi assunti che dedicano una parte del loro orario di servizio al pronto soccorso Il Cotugno di Napoli dal canto suo è stato all'ospedale in prima linea per il Covid ora chiede più attenzione Ci hanno definito eroi e questo ci fa onore per tutta la categoria sia naturalmente per quanto riguarda i dirigenti medici sia per quanto riguarda il personale del comparto senza volontà e passione non andiamo da nessuna parte ci vorrebbe qualcosa in più ma purtroppo questo non dipende soltanto da noi ma dipende anche da altri momenti istituzionali Il problema quindi non è necessariamente di tagli alla spesa ma di difficoltà nel reperire le figure mediche e di attrattività delle aziende ecco che magari un miglioramento anche della qualità dell'organizzazione può diventare una leva per attrarre anche i professionisti a garantire dei servizi essenziali quali quelli per esempio del prono soccorso a Benevento riunione fiume sul ciclo integrato dei rifiuti tra Ato Regione e Sante della provincia la priorità è far ripartire l'unico impianto per il trattamento dell'immondizia distrutto nel 2018 da un incendio vediamo riaprire nel più breve tempo possibile lo stir dei rifiuti di Casalduni questo è l'unico elemento su cui sono stati tutti d'accordo meno sulle modalità ovvero sul progetto presentato dalla Regione per il ripristino della struttura devastata da un incendio nel lontano 2018 da allora i comuni e le società addette allo smaltimento dell'immondizia sono costretti a trasferire i rifiuti in altri imbianti nel napoletano e in Irpinia con un costo maggiorato questa mattina Benevento riunione fiume per fare il punto sulla situazione è determinante per l'intera provincia di Benevento riattivare lo stir quindi oggi in questa conferenza di servizio la Samete insomma è presso la provincia massima collaborazione ma con l'augurio che comunque ci sia la stura a questa riattivazione dello stile di Casalduni Al tavolo a Torifiuti Regione Samete Provincia e Tecnici a rischio ci sono i finanziamenti della Regione per un valore di oltre 40 milioni di euro Ci sono dei fondi a disposizione che ha messo a disposizione la Regione Campania quindi è determinante velocizzare ogni tipo di processo nel rispetto dei ruoli e delle istanze di tutti quindi massima collaborazione ripeto con l'augurio che quanto prima si riesca a dare la stura a questa riattivazione dello stile che ricordo a chi ci ascolta è fermo da lontano 2018 quindi sono tutti quanti gli ambienti fermi in provincia di Benevento ed è giusto dare una visione prospettica a questa provincia lavoriamo ogni giorno per questo A Salerno si smonta l'albero di Natale tra poco si spengono le luci d'artista ai nostri microfoni il bilancio di cittadini e commercianti Archiviate ormai le festività è stato smontato il grande albero di Natale in piazza Portanova a Salerno uno dei simboli della manifestazione lucida artista che terminerà il prossimo 21 gennaio come sempre l'evento divide i cittadini sicuramente porta un'immagine della città io la farei in un altro modo le lampadine accese sono cose paesane ha dato visibilità alla nostra città è stata una bellissima manifestazione le dispiace che è andato via l'albero che si spengono le luci e vabbè come ogni festa finisce a dire il vero per me è un po' ripetitiva dovrebbe reinventarsi qualche altra cosa io sarei più per quelle proiezioni sui palazzi penso che porti comunque sicuramente ricchezza a Salerno Salerno è diventato un po' conosciuta prima non lo era i commercianti tirano ora le somme analizzando un periodo duro per il settore un momento molto triste per la città perché veramente è come se si fosse abbassato un sipario praticamente c'è proprio il vuoto già da ieri sera ci siamo accorti alle 7 era finita la giornata aspettiamo che qualcuno si dia un po' da fare anche le associazioni con qualche iniziativa è ovvio che dopo il periodo natalizio di maggior afflusso di persone c'è un calo proprio verticale è necessario cercare di mettere in campo altre iniziative come hanno suggerito dei suoi colleghi ma assolutamente sì l'iniziativa è progresso quindi è di evoluzione per cui va benissimo sempre bisogna capire quali e mirarle bene Avellino verso il voto delle amministrative il centro-sinistra alla ricerca di un candidato autorevole Santoro dice serve una figura politica che sappia uscire dalla deriva alcolica di questa città vediamo un incontro per recuperare la memoria dell'ulivo e gli esempi positivi che quella stagione ha saputo fornire anche in provincia di Avellino al circolo della stampa l'associazione Fausto Addesa ha organizzato un incontro con relatori Antonio Limone Nunzio Cignarella e Amalio Santoro è stata anche l'occasione evidentemente per parlare di amministrative in questi giorni sta circolando anche il nome proprio di Antonio Limone come candidato sindaco per Avellino del centro-sinistra lei lo sa in politica come funziona quando chiedevano a Pulcinella se andavo in galera ci vado mi portano io non ho nessuna velleità non sono disoccupato ho l'impressione che però bisognerebbe fare molto più incisivamente questa azione di aggregazione intorno a un candidato possibile immaginando programmi e prospettive questa città ne ha assoluto bisogno e gli fa eco Amalio Santoro ci vuole anche una tensione ideale una capacità di visione una capacità di interloquire con altri mondi di alzare lo sguardo di uscire anche dal pantano cittadino dalla deriva alcolica di interloquire con il resto del territorio regionale le primarie di coalizione Santoro non ci ha mai creduto mi capitò di partecipare alle prime primarie del nascente PD in provincia fu una autentica buffonata sono state puntualmente una corsa sgangherata verso il vincitore annunciato la carenza di figure professionali e operai specializzati nel settore delle costruzioni è solo uno degli aspetti che questa mattina sono stati toccati dal presidente del lancio di Benevento Mario Ferraro che ha tenuto una lezione agli allievi dell'istituto per geometri vediamo non solo nella nostra provincia ma in tutta Italia c'è questa carenza di figure professionali soprattutto nel nostro settore oltre ad operai specializzati che mancano in maniera abbastanza forte parte da qui Mario Ferraro il presidente dell'associazione nazionale costruttori di Benevento che questa mattina ha tenuto una lezione con gli studenti dell'istituto Galilei Vetrone obiettivo dell'iniziativa è proseguire il percorso di diffusione della cultura d'impresa avviato nelle scuole del Sannio lo scorso anno per l'avvicinamento dei giovani al settore dell'edilizia stiamo vicino alle scuole per far capire il settore delle costruzioni che abbiamo bisogno di figure professionali ci sono tanti lavori nel corso del tempo che bisogna portare a termine soprattutto quei PNRR e anche grosse infrastrutture e oggi ci troviamo qui al Galileo per far rappresentare quella che è la nostra forza all'interno del tessuto imprenditoriale è una lezione speciale e di queste lezioni con gli esperti e le categorie che sono direttamente collegate al mondo del lavoro rispetto all'indirizzo di studio per noi sono un valore aggiunto inestimabile proprio per favorire una migliore formazione più aggiornata rispetto alle nuove tecnologie e poi per favorire il passaggio o nel mondo del lavoro o nell'altra formazione che prevede percorsi professionalizzanti oppure l'università ed ora i cento anni di Emilio Iorizzo un pilastro della ristorazione in Irpinia fu l'uno negli anni 70 a lanciare la grande sfida della scuola residenziale alberghiera delle aree interne vediamo è definito da tutti il re della cucina un pioniere della scuola residenziale alberghiera nelle aree interne Emilio Iorizzo mente lucida e temprata figura simbolo della ristorazione nell'arianese vita di sacrifici e soddisfazioni eccolo nel giorno dei suoi cento anni circondato dall'affetto di parenti ed amici sacrifici della guerra sacrifici quando ero piccolo pur perché erano altri tempi non erano i tempi di oggi c'è anche un ricordo legato a Giorgione a questo importante luogo simbolo della nostra città della nostra ariano e quindi diciamo vi è un legame ancora più profondo evidentemente con la città di ariano e noi siamo qui per omaggiarlo e per tributare ecco l'onore dovuto grazie a Emilio ariano ha goduto di un momento di grande gloria della gastronomia arianese e lui colui che si è inventato e ha avuto la lungimiranza di partire con questa cosa che nel 76 77 avviò la scuola residenziale alberghiere che prima da Giorgione e dopo a Monte Calvo perché non c'era spazio grazie a quello gli anni 80 abbiamo visto una crescita di ciò che era gli eventi che si tenevano ad ariano e la crescita della ristorazione è stata incredibile e allora tanti auguri ad Emilio Iorizzo e con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.